Vediamo un altro esempio di analisi di un circuito in regime sinusoidale in cui sono coinvolte le potenze. Prendiamo un generico circuito, immaginiamo di considerare il circuito composto di due parti che rappresentiamo in questo modo e come fatto anche in precedenza. Immaginiamo che le due parti siano connesse tra di loro soltanto da due conduttori in modo che il circuito di destra, quello che stiamo analizzando, possa essere considerato un semplice bipolo. Supponiamo di avere come dati di partenza la potenza attiva P assorbita da questo circuito, supponiamo di conoscere anche la potenza reattiva Q assorbita dal circuito e supponiamo di conoscere il valore efficace della tensione V rappresentata da questo fasore ai capi del circuito stesso. Quindi passiamo ai dati, supponiamo che la potenza attiva assorbita P sia pari a 300 Watt, supponiamo che la potenza reattiva Q sia negativa e abbia valore meno 50 VAR, ricordiamoci subito il fatto che essendo negativa la potenza reattiva si tratterà di una potenza reattiva di tipo capacitivo. Supponiamo anche di conoscere il valore efficace della tensione V ai capi del nostro circuito di destra, quello che stiamo considerando come un semplice bipolo e sia pari a 230 Volt. vogliamo determinare il fasore della tensione sinusoidale V, quindi non solo il suo valore efficace ma anche la sua fase e la stessa cosa per il fasore della corrente I assorbita dal bipolo. Non mi stancherò di ricordarvi la necessità di rispettare la convenzione dei segni per i bipoli passivi, come in questo caso, affinché le soluzioni e i segni delle grandezze che troviamo siano esatti. Come possiamo fare per procedere a trovare la soluzione? Intanto possiamo scrivere le espressioni di Q e di P, le loro espressioni che le definiscono, e vedere che informazioni ci forniscono per la soluzione. Abbiamo che la potenza reattiva Q è pari a V per I per il seno di Φ, poi sappiamo che la potenza attiva P è pari a V per I per il coseno di Φ, immaginiamo di dividere, di porre la frazione, diciamo, Q diviso P, quindi avremo Q diviso P uguale a V per I seno di Φ fratto V per I coseno di Φ, quello che mi rimane qua, una volta che vado a semplificare V per I e V per I a numeratore e a denominatore, mi rimane seno di Φ fratto coseno di Φ, e questo non è altro, sappiamo dalla trigonometria essere la tangente dell'angolo Φ. Φ che cosa è? Vi ricordo ancora, Φ è l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente, quindi ricordiamoci che Φ per i bipoli passivi è l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente, quindi la differenza della fase della tensione con la fase della corrente. Se andiamo a sostituire i valori che abbiamo nel nostro esempio, abbiamo che Q è uguale a meno 50 fratto P che è uguale a 300, questo mi dà meno 0,167, ovviamente valori leggermente approssimati, ma per l'economia dei nostri circuiti non c'è nessun problema nel utilizzare delle approssimazioni. Quindi da questo valore della tangente noi possiamo ricavare quindi l'angolo di sfasamento Φ con l'operazione trigonometrica inversa e quindi Φ sarà dato dall'arco tangente di meno 0,167 che se lo calcoliamo in gradi sessagesimali, questo risulta essere uguale a meno circa, ripeto, meno 9,5 gradi. Con questo valore dell'angolo di sfasamento possiamo anche calcolare, così intanto ci servirà andando avanti, il coseno di Φ, quindi il fattore di potenza uguale a coseno di meno 9,5 gradi sessagesimali e questo è 0,986 circa il fattore di potenza, quindi un fattore di potenza molto elevato, approssimo a 1, ma non 1, è il seno di Φ uguale al seno di meno 9,5 gradi che essendo il seno di un angolo negativo mi dà un valore negativo pari a meno 0,164. Una volta conosciuto il fattore di potenza cos Φ e anche il sen Φ, è facile ricavare il valore efficace della corrente, perché se io riprendo l'espressione della potenza P attiva come V per I coseno di Φ, adesso l'unica incognita che ci rimane è l'ampiezza della corrente I, cioè il suo valore efficace per l'esattezza I e quindi lo ricaviamo I uguale a P fratto V cos Φ, quindi sostituiamo i valori 300 Watt a numeratore, a denominatore 230 V per 0,986, il valore del fattore di potenza, se svolgo il calcolo trovo che questo è uguale a circa a 1,3 A. I lo potremmo calcolare anche come Q fratto V seno di Φ e quindi però ho chi ha i segni, nel senso che Q è meno 50 e qua abbiamo sempre 230, però per meno 0,164, quindi il segno negativo a numeratore con il segno negativo a denominatore mi riporta il valore positivo e quindi ci ritroviamo il valore 1,3 A calcolato in precedenza. Continuiamo ad analizzare il circuito e i risultati che abbiamo ottenuto andandoli a vedere graficamente sul piano di Gauss, il piano di Gauss, reale e immaginarie. Adesso noi per determinare la fase della tensione e della corrente non le possiamo determinare in senso assoluto, ma le possiamo determinare in senso relativo, cioè conoscendo l'angolo di sfasamento che c'è tra una e l'altra, quindi possiamo e dobbiamo, se vogliamo rappresentare graficamente, scegliere l'angolo del fasore o della tensione o della corrente e determinare l'altro di conseguenza. D'altronde quello che interessa a noi è lo sfasamento tra i due, e non i valori assoluti dei due angoli, ma appunto la differenza fra questi due angoli. Quindi se per semplicità diamo come fase alla tensione il valore 0, cioè scegliamo ΦV uguale 0 gradi, e questa è una scelta che facciamo, è un'ipotesi che facciamo, una scelta autonoma che possiamo fare, allora abbiamo che da questa discende che siccome Φ l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente, che è uguale alla differenza fra ΦV meno ΦI, sappiamo essere uguale, l'abbiamo calcolato sopra, a meno 9,5 gradi, allora da questa deriva che la fase della corrente FI con I, la porto a destra del segno di uguale cambiandola di segno, quindi mi rimane ΦV dall'altra più 9,5 gradi, cambio di segno portando a primo membro, e quindi, avendo dato 0 a ΦV, alla fine la fase della corrente risulta essere uguale proprio ai 9,5 gradi che abbiamo determinato prima, quindi andiamo a disegnare sul piano di Gauss, abbiamo detto che il fasore della tensione si trova sull'asse delle ascisse, perché gli abbiamo dato fase 0, il fasore della corrente avrà angolo 9,5 gradi, adesso qua accentuo un po' l'angolo per che sia visibile graficamente, quindi il fasore della corrente sarà questo, questo angolo qui, FI con I, uguale a 9,5 gradi, è appunto la fase della corrente, mentre invece FI, l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente, che è sempre questo, qua prolungo per avere un po' più, l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente, è sempre lo stesso angolo FI con I, però percorso, vi ricordo, nel verso in cui io devo far ruotare il fasore della corrente, fino a sovrapporsi al fasore della tensione, quindi la rotazione in questo caso è in senso orario, essendo in senso orario l'angolo descritto è un angolo negativo, quindi FI è uguale a 9,5 gradi, ma negativi, vi ricordo questo è sempre importante determinare il segno dell'angolo di sfasamento fra tensione e corrente, un angolo di sfasamento negativo vuol dire che la corrente, così come è evidente dal grafico, è in anticipo in questo caso sulla tensione V, e in questi casi noi ci troviamo di fronte a un bipolo di tipo ohmico capacitivo, quindi che assorbe potenza reattiva capacitiva e quindi di valore negativo, quei meno 50 volt ampere reattivi, noi li ritroviamo nel diagramma vettoriale tensione e corrente, proprio perché la corrente risulta essere in anticipo sulla tensione, quindi con un angolo di sfasamento fra tensione e corrente negativo, in questo caso pari a meno 9,5 gradi.